E qua a Viale Trastevere com'è la connessione? La connessione va, ma ringraziando Dio perché ho giga illimitati. Penso a tutti quegli studenti e quelle studentesse a casa che non hanno un wifi o che non si possono permettere una connessione o mezzi tecnologici adeguati per fare la TAD. Siamo qui perché ora è necessario chiudere le scuole per una situazione sanitaria che è arrivata al limite, ma tutto questo è il frutto di un lavoro che non è stato fatto negli scorsi mesi e non possiamo permetterci alla prossima riapertura di tornare allo stesso modo. Abbiamo bisogno di una scuola in sicurezza, dei mezzi per arrivarci in sicurezza, abbiamo bisogno di fare della scuola in presenza che è l'unica vera scuola. Siamo qui davanti al Ministero per fare tutti e tutte lezioni a distanza, per far vedere davvero alla Ministra e a questo Governo quello che è la TAD e quello che è davvero il risultato delle misure che hanno preso. Il Governo e questo Ministero ha avuto più di tre mesi dalla fine dello scorso anno all'inizio di questo per provare a farci ripartire in sicurezza. Ci siamo ritrovati a settembre con scuole con le stesse identiche classi pollaio che non permettevano il distanziamento, con scuole in cui i banchi non sono arrivati per mesi e mesi, con scuole per cui per arrivarci ci si metteva molto, come sempre, e soprattutto non si poteva farlo in sicurezza perché i mezzi erano stracolmi, c'erano pochi autobus e gli studenti quindi ci sono dovuti esporre per preservare il loro diritto allo studio a un rischio così grande. Il Governo e il Governo Il Governo e il Governo